se vi chiedono da quanto tempo non fate l'amore e voi rispondete quattro mesi e vostra moglie una settimana ricordate che il vostro problema non è la mancanza di memoria chiediamoci un calciatore vegano può giocare con la fiorentina ricorda che l'acqua è potabile ma anche la siepe però non bevetela certo infatti non so che te bevi le foglie ma forza che non te bevi le foglie infatti dice che ha mangiato la foglie non che bevo la foglia ma per me la foglia voi altri vi ha si fumà prima di venire in terapia da me che cosa avete fatto per risanare la coppia ah beh dottori arrivare abbiamo provato tutti abbiamo provato quanti colleghi abbiamo visto psicologi psicoterapeuti terapeuti di coppia massaggini agopunturi preti patino veterinario comportando mai capito niente nessuno abbiamo visto un sacco di gente che ne ha dai consigli più strani più disparati e dirivo anche più disperati tipo uno che ha detto per recuperare il vostro rapporto dovete fare il scambio di coppia e l'avete fatto certo che l'abbiamo fatto l'abbiamo provato se ne dice noi proviamo e com'è andata com'è andata siamo andati su sto locale si abbiamo fatto quello che bisognava fare sto scambio di coppia ma a fine della serata mi ha dato in rio e ora che scambio è tentea se te che te niente tentea no scambio e un altro suo collega illuminato ne ha detto provate a fare cose più estreme ne ha detto fate rafting ecco vede questa è una bella esperienza no com'è andata come è andata è che al presente ora è rafting in pratica che ti metti un sigma un gomò e ti butta sopra al Brenta obiettivo arrivare vivi a fine sai com'è che è andata a finire l'istruttore dopo 5 minuti si va a buttare in acqua negare le sue spunte io sottoscritto in scantamburlo mi sono capato insieme a un sasso con una coertina tipo terremotati e invece il cancro di mio mario le sue ricerche sono durate 40 ore con gli elicotteri e a fine l'era dentro un baretto in basso il gano adrio giugare buraco